l'ora solare l'ora solare di tv 2000 ben trovati in questo giorno che è un giorno speciale siamo a sei anni fa è il 13 marzo del 2013 e diventa papa il nostro papa francesco prima un grande applauso questo sì glielo tributiamo per ringraziare e avremo modo oggi di vedere di seguire il grande immenso lavoro fatto da papa francesco il 266 pontefice il primo papa gesuita il primo a scegliere il nome di francesco il primo papa che arriva da così lontano dall'america latina e tutti tutti noi abbiamo negli occhi e nel cuore queste immagini fratelli e sorelle buonasera voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a roma sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo ma siamo qui vi ringrazio l'accoglienza vorrei dare la benedizione ma prima prima vi chiedo un favore prima che il vescovo benedica al popolo vi chiedo che voi pregate al signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo facciamo facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me questo è questo è stato e sono ogni volta immagini parole che non ci stanchiamo mai di ascoltare stefania falasca io sono contentissima che stefania falasca giornalista editorialista per avvenire abbia accettato di dedicarci oggi tempo anche anche in funzione della sua amicizia ben precedente a questa a questo momento con il cardinal bergoglio quindi con con papa bergoglio prima che diventasse prima che diventasse papa ma allora intanto stefania ben arrivata tu mi dicevi bisogna rileggere risentire quelle parole perché in quelle parole in queste parole c'è tutto il messaggio sì anche se sembrano delle parole improvvisate in quel momento momento certamente particolare se noi le andiamo a risentire e a rileggere con attenzione dentro c'è già tutto quello che è il suo programma di pontificato all'interno proprio della lo dico in termini più di tutta l'ecclesiologia del concilio che vuol dire quando lui si presenta e dice buonasera fratelli e sorelle quello vuol dire proprio il farsi prossimo stare vicino alla persona e quindi è stato proprio quello del concilio di non considerare il mondo la chiesa come dirimpettaia del mondo ma stare vicino alle persone l'essere propter hominem come dicevano quando si dice vescovo di roma anche questo è importante e perché perché è dentro la ricerca degli unità dei cristiani il vescovo di roma tant'è che bartolomeo primo che è il patriarca ecumenico di costantinobili subito è partito ed è venuto per l'inaugurazione a roma del suo pontificato e questo il vescovo di roma tutta questa valenza dentro la chiesa quando poi dice vescovo e popolo e adesso camminiamo iniziamo questo cammino vescovo e popolo questo insieme qui è tutta la chiesa del che viene dalla considerazione della lumen gentium la natura della chiesa cioè che non è solo gerarchica è gerarchica ma quello che viene dal concilio è che la chiesa è concepita come popolo di dio quindi cominciamo insieme questo cammino a questa importanza ed è stato più in più in più in più quando alla fine dice di maria che vuole andare a salutare il giorno seguente santa maria maggiore santa maria maggiore salus popoli romani la parte che maria è madre della chiesa in questo disegno appunto è anche la considerazione di maria che è la salus ecclesia per eccellenza perché la salus popoli romani significa questo è stata fatta anche da tutto il popolo di quella è la chiesa costruita dal popolo di roma a volte noi ce ne dimentichiamo forse è più facile che sappia un turista sappia tutto questo o un pellegrino a volte noi romani questo tendiamo proprio un orizzonte della chiesa e questo è il programma che lui sta portando avanti guardate questa fotografia allora ben inteso che stefania che è persona di attenta e rara sensibilità come dire non se ne è mai fatta avanti di tutto questo però questo era quando quando bergoglio non era papa insomma quando vi conoscevate ed era ed era la stessa persona ed era la stessa si stesso vescovo un po più magro forse sono cambiati un po anche gli impegni no è chiaro no è che con l'andare ha avuto qualche problema e poi non riusciva più a ritornare in quella magrezza in cui era come l'abbiamo conosciuta era così molto eratica come figura e la sera del 13 marzo del 2013 è la sera è questa che vi stiamo raccontando nella giornata di oggi però a casa di della nostra amica e giornalista e collega accade una cosa un po particolare perché a un certo punto è squillato il telefono sì dopo che ero ritornata dalla piazza in san pietro ero con mio figlio un suo amico di scuola eravamo lì per caso devo dire perché non attendevamo la fumata bianca per la sera ma per il giorno seguente e però c'era mio figlio che partiva per monaco quindi volevano vedere per la prima volta nella loro vita lui il suo amico la fumata fosse nera e non speravamo bianca ci trovavamo lì quindi quando abbiamo visto che c'era il fumo bianco ci siamo indirizzati verso il centro della piazza ed eravamo in un enclave tra argentini e brasiliani senza saperlo senza saperlo eravamo lì siccome il brasile ho visto negli anni che sono antagonisti un po degli argentini però in quel in quel frangente c'era una una collega della cnn che girava e faceva queste interviste per così tra le persone tra i presenti e chiede a paolo mio figlio e al suo amico chi poteva essere per loro il papa e loro hanno risposto bergoglio li hanno ricercati poi questi ragazzini no sì insomma è un motivo è semplice perché loro era l'unica persona che conoscevano in quanto in un periodo appunto quando paolo faceva il liceo era andato a loro scuola proprio invitato da paolo perché era stato in argentina dal preside dalla dalla insegnante per parlare sulla questione della droga a questi ragazzi quindi come dire indovinare va bene d'accordo la mamma è una vaticanista un editorialista quindi diciamo che viaggiavano già bene informati però certo indovinare esattamente il papa per il papa che poi arriverà non è cosa di tutti i giorni ma continuiamo con stefania farasca tra poco ci fermiamo soltanto per un istante io guardo sempre su perché sopra c'è l'orologio lo dico perché ribadisco a volte mi dicono perché guardi verso il cielo non voglio avere l'espressione di un cherubino non sono purtroppo un cherubino ma il timer mi dice che è ora di dare la pubblicità ci vediamo tra un atto Stefania palasca vaticanista di avvenire editorialista amica di papa bergoglio quando papa bergoglio non era ancora il nostro papa francesco insomma la stessa sera del 13 marzo di sei anni fa a casa ricevete una telefonata si eravamo appena tornati appunto dalla piazza con mio figlio ed eravamo abbastanza sconvolti da tutto quello che era successo non facciamo in tempo ad entrare mi ricordo mio figlio sulla soglia della porta della cucina col telefono che sembrava tenesse una qualcosa di incandescente e fa è bergoglio a sì e quindi io rispondo veramente così perché sono queste cose che uno non e mi ricordo che proprio nella 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 sorpresa e nel momento non sapevo che dirle e allora gli ho detto padre come noi lo chiamavano come la devo chiamare adesso questa è stata è un dubbio legittimo e lui ha risposto come sempre e ha detto questa è la telefonata la prima che faccio volevo farla voi così come la famiglia cercava mio marito che era ancora invece dato per disperso perché anche lui si trovava casualmente a san pietro in piazza san pietro ma deve essere rimasto scioccato dal provate ad immaginare insomma tutto questo e ribadisco questo stefania lo racconta con anche con quel pudore come giusto è giusto anche non insistere perché un'amicizia è un'amicizia e non si può entrare così si all'interno di rapporti che vorrei dire infatti noi abbiamo conosciuto bergoglio è vero nell'ambito giornalistico eravamo già da più di 15 anni che lavoravamo nel quindi della conoscenza di tanti cardinali eccetera e per un mensile appunto che si riguardava la chiesa e di bergoglio quello che che ci è rimasto è proprio questo cioè conoscere una persona come un prete un è stato molto molto discreto però sempre molto vicino e la forma di questa gratuità con cui l'abbiamo incontrato è rimasta guardate queste immagini con noi siamo al 23 marzo quindi saranno solo passati dieci giorni e siamo a castel gandolfo perché c'è il papa emerito c'è papa benedetto sedicesimo e guardate la tenerezza e questa questa forma di abbraccio alla quale ormai siamo abituati ma che all'epoca chiaramente ci fece capire di essere all'interno di un periodo storico di un momento assolutamente assolutamente speciale stefania ivi compresa ivi compresa questo istante cioè il papa avrebbe dovuto sedersi e inginocchiarsi sulla poltrona del papa e invece come due fratelli si sono messi un accanto all'altro ma questo è solo una delle è stato solo l'inizio diciamo così di un pontificato così speciale posso chiedervi ancora anzi ti chiedo stefania questo questo rapporto per il quale papa benedetto è tornato poi in in san pietro cioè perché c'è stato un istante in cui abbiamo detto chissà che cosa succederà invece poi tutto questo ha portato a una stretta una un'amicizia ad uno stare vicini uno con l'altro ma assolutamente sì non si può pensare a questo non ci sono mai stati due papi diciamo così come molta insomma vulgata ha detto è il successore di benedetto sedicesimo e nel suo pontificato l'attuale papa francesco non fa che continuare anche quello che è che sono state le prerogative del precedente pontificato nella chiesa non si parla mai di rotture definitive o di distanze si parla di camminare avanti ancora una data 8 luglio del 2013 il primo viaggio del pontificato di papa bergoglio ed è un segno dei tempi lo dico tra virgolette perché il papa è andato a lampedusa perché dopo un uno dei tanti drammatici naufragi il papa è andato dagli ultimi stefania e questa rimane una sua una sua linea che passiamo lontanati questa della della quello che porta avanti papa francesco è quello che è stato in che ha iniziato con il concilio quindi la chiesa povera per i poveri la ricerca dell'unità dei cristiani la ricerca della pace il dialogo con le altre religioni e e una nuova e rinnovata missionarietà questo dei poveri è fondamentale perché qui non è un po nazione sociologica è incontrare cristo questa è la povertà nella chiesa essere simili a cristo e riceverlo dai poveri quindi non è una categoria sociologica o pauperistica non è una scelta pauperistica è una scelta teologica di fondo ed è un un andare incontro agli ultimi che continua a guardate sarebbe impossibile anche perché abbiamo il diario di papa francesco anche perché tutta questa giornata è dedicata a questi sei anni di pontificato di papa francesco noi ci stiamo muovendo sui primi passi da quel 13 marzo di sei anni fa perché tanto e troppo avremmo avremo da dire rio de janeiro giornata mondiale della gioventù della ventottesima giornata dal 22 al 29 luglio del 2013 quasi si vede veramente se la vede brutta nel senso per carità migliori termine l'autista perché sbaglia addirittura strada e guardate questa invasione con il padre che tiene il finestrino abbassato sì io non oso immaginare quegli uomini della sicurezza cosa devono aver provato io ero lì ero appunto la grande messa copacabana ovviamente quel momento della macchina è stato terribile però meraviglioso perché abbiamo pensato adesso non riesce più dalla e invece non c'è stato poi in questo viaggio nessun incidente di nessun tipo ed era una folla enorme quella che anche lungo la spiaggia di copacabana stiamo vedendo quando ha incontrato i giovani e stiamo sull'orlo dell'oceano quindi era molto rischioso però è andato così quello è stato un ritorno ad aparesida dove peraltro ecco anche quando dicevamo prima di benedetto se dicessimo loro aparesida ha segnato un punto di rimente per il ricorso della chiesa di questi anni allora 29 nove novembre del 2015 in questo caso invece siamo più avanti la cattedrale di banghi papa francesco apre la porta santa per il giubileo della misericordia su questo concetto di misericordia su questa sul senso della misericordia il papa ha fondato fin dall'inizio tutto il suo cammino questo è un altro e diciamo dei dei capisaldi delle priorità che ha fatto riemergere proprio nella missionarietà della chiesa la chiesa esiste solamente per comunicare la misericordia di dio agli uomini non c'è altro fine della chiesa quindi il papa ha ripreso questo motivo e l'ha evidenziato nel suo pontificato non è certo stata un'invenzione questa di banghi di iniziare il suo viaggio da qui è stato un altro segno molto forte certo perché sappiamo che questo luogo africano oltre a tutte le piaghe che ha quella della guerra è un altro dei temi su cui appunto per perseguire la pace stefania noi chiudiamo con queste con queste immagini e devo devo rubare un minuto perché parla il papa e oggi lo vogliamo sentire da ascoltare 11 agosto del 2018 veglia di preghiera con i giovani al circo massimo con il papa che si rivolge ai ragazzi anche ai ragazzi come tuo figlio come un amico di tuo figlio come tutti quei ragazzi che non conosciamo questo è il principio te lo chiedo in due parole questo inizia essere la grande eredità di un papa cioè sapere che dialogare con i più giovani rimane la cosa più importante dialogare più con i con i giovani ma anche dialogare con i più anziani questo legame intergenerazionale che lui ha stabilito è quello che è importante da seguire perché non i giovani non sono il futuro della chiesa sono il presente ma hanno delle radici che sono gli anziani bene stefania falasca e io non avevo dubbi che il suo racconto sarebbe stato così e così bello grazie papo francesco circo massimo lo sappiamo insieme sarò felice di vedere correre più forte di chi nella chiesa è un po lento e timoroso a tratti da quel volto tanto amato che adoriamo nella santa eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente lo spirito santo vi spinga in questa corsa in avanti la chiesa ha bisogno del vostro slancio delle vostre intuizioni della vostra fede abbiamo bisogno e quando arriverete dove noi non siamo ancora raggiunti abbiate la pazienza di aspettarci come giovanni aspettò pietro davanti al sepolcro vuoto quando quando moglie e marito hanno fatto il giro del compasso a 360 gradi e vivono nell'arte e sono una bellissima coppia giulio scarpati e nora venturini ben trovati grazie 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 di essere con noi dunque l'attore e la regista e scrittrice adesso andiamo un passo alla volta vogliamo parlare subito di questo misantropo chi parte ma parte la regista parte la regista ma che signore non c'erano dubbi eccoci qua prima di vedere le immagini perché dobbiamo venire a teatro a vedere questo questo misante allora perché perché questo testo scritto qualche anno fa qualche secolo fa parla invece molto di noi parla della nostra società parla di quest'uomo al ceste che è un uomo di grande rigore e di rigore estremo che non sopporta e detesta l'ipocrisia la disonestà fermi fermi da oggi fino al 24 marzo per tutti i romani o coloro che si trovino a roma al teatro ambra iovinelli lo storico teatro ambra iovinelli di roma e il misantropo in scena ci sono giulio scarpati con valeria solarino e con tanti altri attori la regia di nora venturini guardate un po un piccolo assaggio è piccolo e e e Grazie a tutti. Ebbè, poi ci mettete pure Mozart e tutto è messo tutto insieme. Giulio, intanto grazie, grazie mille, grazie anche perché stasera siete in scena, quindi grazie a maggior ragione per essere qui con noi. Com'è essere diretti dalla propria moglie, compagna di vita, quindi da una persona con la quale condividi il caffè del mattino? Com'è? Dunque, allora diciamo, Nora ama molto gli attori, attrici, attori, quindi ama dirigerli, ama dare a loro le opportunità. Averle in casa può essere un problema, nel senso che la direzione dovrebbe fermarsi alle ore di lavoro. E questo volevo capire, cioè, a giudicare dalla tua espressione... Anche il caffè ti va di traverso perché ti dice qualche cosa di lavoro, magari... Perché tu lo fai, Nora. Non si ferma. Il problema può essere questo, nel senso che quando siamo nelle prove, per me Giulio equivale a Valeria, a qualsiasi altro attore. Qual è la differenza? È che ci portiamo il lavoro a casa. Perché poi quando uno sta preparando uno spettacolo, lo spettacolo diventa un'ossessione, ci pensi tutto il giorno. Ti dai più l'idea di essere tu, che vai lì e di lì, guarda, stavo ripensando di quanto forse non... Sì, sì, è proprio questo, l'hai proprio centrato. Bene. Però, voglio dire, quindi c'è anche, diciamo così, lo stress di avere prove che non finiscono, insomma, nell'orario stabilito. No, perché le cose ti vengono in mente nei momenti anche fuori prove, no? Ma siete stupendi, siete una partita a tennis, voi due, uno alza, pum, palla, l'altro risponde. Perciò... È stupendo. E con gli altri attori non è che tu chiami e dici, guarda a mezzanotte, mi è venuta in mente. Allora, Nora non ci sente, Nora non ci sente. È una regista bella... Tosta. Tosta, sì, sì, no, assolutamente. Come è giusto essere, sì. Se tu ami una cosa, la vuoi che sia fatta bene al 100%, quindi diciamo, tra una regista così e un regista che fa una cosa ma non è proprio convinto che sia la cosa migliore. È molto meglio, sotto tutti i punti di vista. Anche professionale per me, quando vedo un regista distratto, oddio, cioè sembra come... Sì, ti cadono le braccia, certo. Che non ami quello che sta facendo. Invece è fondamentale, l'amore per il lavoro è questo. Ecco... Ma io scherzo, in realtà, anche per un attore, il lavoro sul personaggio continua anche a casa, non è che tu stacchi le prove e cambi del tutto, no? Ma vi è mai capitato di discutere in maniera... Ma qualche domanda che fai, pure tu, ma che maniera... Per essere appassionati vuol dire anche questo del proprio lavoro, no? Va bene. Attenzione, arriviamo, arriviamo a tutto, arriviamo a tutto. Adesso ci spostiamo per un attimo perché è stato difficilissimo per entrambi, credete, trovare il bandolo della matassa perché è talmente tanto il lavoro che voi avete fatto e fate che partire dall'inizio sarebbe un po', o comunque trovare dei punti fermi è stato un po' difficile per la tanta materia a disposizione. Io voglio ricordare il giudice ragazzino, e siamo nel 1994, il tuo Davide Donatello, Giulio, perché quel Rosario Livatino era... Eri lui, e questo è arrivato a chi ha avuto, come posso dire, la fortuna, e può averla ancora perché per fortuna quei film noi continuiamo a vederli, di vederti in un'interpretazione che ci siamo sempre chiesti quanto fosse interpretazione e quanto fosse aver trovato il punto perfetto. Quando ami, in questo caso, una persona realmente esistita, una storia così tragica, è l'amore che ti porta anche a cercare di fare con un estremo rigore il massimo, magari anche oltre i tuoi limiti professionali, perché ami talmente tanto quella storia e ti sembra così importante raccontarla e lasciare una testimonianza, e all'epoca erano ancora vivi i genitori di Rosario, quindi avevo una responsabilità doppia, perché sai, mi li rappresentano... Cosa ti dissero i genitori? Mi dissero un incontro bellissimo che avvenne senza... cioè, con un fotografo che non fece neanche uno scatto, perché io lo fulminai con lo sguardo, perché era un momento molto privato e molto... non doveva diventare una pubblicità per il film, doveva essere un momento a parte, ma ci fu un momento splendido quando... io mi ero tutto... vedete, i capelli erano messi in un certo modo, tutti sistemati, da libatino. Quando vado a trovare loro, io mi scompiglio i capelli, perché non voglio fare quello che sta facendo... Quello che deve somigliare al figlio. Al figlio. E la mamma di Rosario mi si avvicinò e dice... mentre stavamo lì a prendere il caffè, e mi sfiorò alla fronte dicendo... eh, Rosario li portava così. E un'altra cosa che io ricordo come estremo, con grande, grande, grande affetto, è l'abbraccio di questo padre di Rosario, un tipo molto estroverso, al contrario della mamma di Rosario, che era silenziosa, fatta di solo sguardi, come soltanto i siciliani sanno essere. Mi si avvicinò e alla fine pianzi abbracciandomi. E io adesso mi commuovo. Eh, sì. Mi sembra... perché veramente ti senti una responsabilità e sono felice. È capitato poi, ogni volta che sento parlare di Rosario, io mi giro come se una cosa riguardasse me. È chiaro che non è così, però di fronte a certe storie tu ti senti una responsabilità maggiore. Vedete, e quando il cinema, e qui vengo a Nora, quando una regia, e ricordo la regia era di Alessandro Di Robiland, quando un premio come il Davide Donatello è stato vissuto da tutti, ma da tutti noi, noi pubblico, come il più giusto che si potesse assegnare. E dico questo non perché ci sia un collegamento diretto, però perché un po' lo fai. Cioè un po' dici, è ancora vivo perché tu me lo stai raccontando, no? Certo, è vero, è vero. Cioè qui sta la trasformazione dell'attore, ecco, che deve saper dare... È così, sì, 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 è vero. Esattamente come hai detto te, è così. E tu, da regista, quella sera che Giulio ha vinto il Davide Donatello? Lì non ero la regista, lì ero proprio la moglie, la compagna di Giulio, mi sono molto commossa. Senti, tu hai tra i tanti amori anche quello della scrittura. La regia perché ti è piaciuto da subito? La regia è quella che faccio da quando ero giovane, perciò mi ha accompagnato tutta la vita, il teatro, il teatro è la regia teatrale. La meraviglia del teatro. La meraviglia del teatro, sì, sì, sì. Tra l'altro, ecco, ci tengo a dire che questo nostro misantropo, come poi l'ha scritto Molière, racconta quello che racconta in modo molto divertente, cioè è uno spettacolo fondamentalmente divertente. Ah, ma si deve, a parte questo... Certo, perché questo, comunque, mettere alla berlina i nostri vizi è fatto in modo molto ironico, come l'ha scritto lui. Anche perché ci si accorge che veramente cambino soltanto i costumi, poi per i costumi intanto di rivestiti. Assolutamente, i personaggi sono tutte persone che non... Per il resto siamo rimasti lì, siamo rimasti lì. Ma, ma, che cosa fanno ora? Mi porta oggi... E questo proprio lo prendo come un regalone, perché essendo un'appassionatissima, tutto ciò che è giallo, non lo so, accende nel lettore un'attenzione in più, non so cosa dire. Lupo mangia cane, ma senza dimenticare l'ora di punta, un'indagine al volante, un nuovo caso per la tassista detective è questo di lupo mangia cane. Ecco, questo, invece, è un amore, un talento, diciamo, più recente, perché, invece, qualche anno fa, io, come te, ero soprattutto una grande lettrice di Giabili. Io pure la grande lettrice, però non mi scrivo. No, no, però, poi ho sempre scritto, perché ho anche scritto sceneggiature, perciò la scrittura c'era già, però essere, scrivere per la narrativa è diverso. Allora, qualche anno fa ho scritto questo libro, ma veramente più per me stessa, avevo voglia di, avevo questa idea in testa, l'idea della tassista detective, di questa giovane tassista romana, che però ha il talento per le indagini. Sì, però quando uno dice inizio a fare una cosa per me, poi dopo fatalmente, quando è bella diventa per tutti. È stato così, veramente è stato così. Questo è merito vostro. Allora, non ho citato Don Zeno, Don Zeno che Giulio interpreta in un modo, come dire, pugnace e bello. Un po' all'alceste, alla misantro. Sì, esatto, un po' così, un po' così. Non proprio calmo. Bene, d'accordo, perché? Perché alla fine i personaggi, insomma, io mi perdo se dico tutti i personaggi che tu hai interpretato, dalle fiction, dal medico in famiglia, tutto quello su cui ti abbiamo visto interprete. E la cosa bella, sai qual è? È vedere che tu abbia sempre questo entusiasmo addosso, che ti fa essere un eterno ragazzino, ma non è solo una questione di sembianza. È proprio un fatto che sei sempre pronto al ciak successivo. Mi piace cambiare, mi piace fare cose diverse. E quando ti appassioni a qualcosa, alla fine ringiovanisci, perché la passione in generale nella vita... Sì, ma vale per tutti e due, eh? Fa ingiovanire, perché tiene vivo sempre un sentimento anche di curiosità nei confronti del mondo e della professione. Prima di chiudere con percorsi d'attore, e quindi cosa fanno gli attori e i registi generosi, aprono una scuola per i ragazzi che vogliano diventare attori e conoscere la regia. Chi è il più bravo a scusarsi per primo quando c'è stata una discussione per la quale avete girato le spalle a casa, avete detto avevo ragione io? No, avevo ragione io. Mi avvalgo la faceltà di non rispondere. Ma no, ma Giulio, ma come? È già una risposta. È una risposta, è una missione. Diciamo che lui è un carattere più docine rispetto al mio. È più dolce, perché poi fa il misantropo in scena, ma in realtà... Ed è per questo che è stato bravissimo, perché fa... Fa un personaggio invece così ruvido. Quindi la tassista detective da rincorrere in ora, insomma. Allora, da stasera al teatro Ambra Iovinelli, per quanto concerne percorsi d'attore, digitare, come dico sempre io, andare a cercare questa scuola che voi... Magari avremo modo un'altra volta di parlarne, quando e come voi avrete tempo, magari anche con qualche vostro attore, no? Ecco, abbiamo questa compagnia, il nostro misantropo, oltre a Valeria Solarino, che è la nostra meravigliosa protagonista. È un gruppo di giovani attori molto bravi, tutti giovanissimi. Perché Nora Venturini e Giulio Scarpati, marito e moglie, nella vita e vicinissimi e compagni sulla scena, hanno questo comune denominatore, so quello che dico, la generosità. Ed è anche per questo che questa sera, da questa sera al teatro Ambra Iovinelli, è veramente il caso di andarli ad applaudire, davvero. Grazie, grazie, grazie di essere stati con noi. Finestre spalancate, tra poco torno a loro suonare, arriviamo tra un attimo. Oh, non avevo dubbi che fosse così, però. Mi vedo, la parola è qui. Ed è sempre una festa quando torno a trovarci padre Gianluigi Pasquale, grazie. Prego, buonasera. Bentornato, bentornato a Lora Solare, docente alla Pontificia Università Lateranense e nostra guida, nostra guida qui a Lora Solare, a TV2000, nel lungo viaggio alla scoperta delle figure dei Santi. Allora, andiamo a parlare di Santa Brigida di Svezia. Mi permetta padre le date, 1303 la nascita, 1373 la morte. Quindi è vissuta soltanto 70 anni. Che però forse all'epoca era già un tempo lungo. Erano molti anni, perché a quell'epoca si moriva più o meno verso i 35-40 anni. Quindi, insomma, fu benedetta da questo punto di vista. Allora, qual è la storia di questa santa? Io direi così. Innanzitutto, appunto, è una santa, quindi è una donna che rappresenta e che ha rappresentato al meglio nel XIV secolo, 1303-1373, come ho detto in altri casi, il volto femminile e materno della Chiesa, a cui, come abbiamo visto prima, ci tiene molto Papa Francesco. Certo. E soprattutto perché nella sua esistenza ha saputo combinare il fatto di essere mamma di famiglia, il che non è importante, sposa, molto intraprendente, peraltro, con la scelta poi radicale che farà 39 anni di dedicare tutta la sua vita qui a Roma per il bene degli altri, dei poveri e dei sofferenti. Ma vorrei partire con un'icona trinitaria in capo a Santa Brigida di Svezia, che dice anche della sua dimensione europea, che secondo me è oggi importante, e cioè Brigida per me è la santa di Stoccolma o della Svezia, di Gerusalemme e di Roma, proprio in scansione con la sua vita. Di Stoccolma perché ebbe otto figli, tra cui la fama... È andata sposa giovanissima, come era all'epoca ovviamente. 14 anni, ecco sì, 14 anni erano già considerate, bastava essere crisimate, diciamo, abili per potersi sposare in tutti i sensi, sposò il famosissimo conte Ulf, perché era nobile di famiglia sia Brigida, sia anche il marito, ed erano, mi permetto di dirlo, visto l'abito che porto, se lei me lo consente Paola, terziari francescani. Questo dice del fatto che i terziari erano già arrivati in Svezia, quindi lassù. Ebbe, come ho detto, otto figli, assieme al marito, furono accolti nella corte di Stoccolma perché Brigida aveva questa caratteristica, la dote, diciamo così, della mamma che ha l'arte pedagogica di curare bene i figli, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista cristiano. Ecco, per quello vedete che c'è un fratelli, era terziari francescana, che poi l'accompagnò alla morte. E rimane vedova, Caterina diventerà santa, sua figlia Caterina diventerà appunto santa, si spoglia dei propri beni. Diciamo che, padre, la partenza era già ottima, nel senso che una famiglia che fosse vicina agli insegnamenti di San Francesco, che fosse quindi naturalmente già propensa all'attenzione del bene per gli altri, partiva bene, partiva benissimo. Era già in pole position. Era già in pole position, bravi padre Gianluigi, riesce sempre a trovare tutti i termini migliori. Quindi arriva a Roma proprio con la figlia Caterina, ribadiamo, la figlia che poi diventerà santa, e va a vivere in totale povertà in Piazza Farnese. Allora, se padre Gianluigi me lo permette, noi abbiamo chiesto al nostro Giorgio Brancia di andare nella casa di Santa Brigida a Piazza Farnese. Siamo nel cuore di Roma, siamo a un passo da Campo dei Fiori, ed è un viaggio che merita davvero. Noi ve lo facciamo fare così, attraverso le immagini. Siamo a Roma, a Piazza Farnese, nella casa dove Santa Brigida visse. Lei viene a Roma nel 1349 per celebrare l'anno santo del 1350 e per trovare il Papa. Alle mie spalle abbiamo due reliquie di Santa Brigida. Il cilicio fatto di crini di cavallo che lei indossava durante la maggior parte della sua vita. C'è il mantello anche che lei ha usato come vedova. E qui invece abbiamo la stanza dove la Santa visse per 19 anni. In questa stanza ci sono altre reliquie di Santa Brigida. Su questa finestra abbiamo il bacino e alcuni fragmenti. sulla finestra opposta abbiamo altri fragmenti, fra l'altro il femore di Santa Brigida. Qui abbiamo il tavolo dove lei scrisse le sue rivelazioni e dove per suo desiderio vuole essere distessa per morirvi. Come lo vediamo qui sul quadro. Santa Brigida morì sul tavolo durante la Santa Messa circondata dai familiari e dai suoi confessori. Con le parole di Gesù, Signore nelle tue mani raccomando il mio spirito. Il carisma di Santa Brigida è scorgato dalla passione di Nostro Signore. Difatti lei aveva una grande devozione alla passione di Gesù e anche alla Vergine Santissima. Per ricordarci questo abbiamo sul capo la corona con cinque pezzi di stofa di colore rosso che simboleggiano le cinque piaghe di Nostro Signore. E anche l'abito grigio, simbolo di penitenza. Ed io proprio per questo ho scelto l'ordine di Santa Brigida. Per la preghiera, l'adorazione, la riparazione, per ricomporre l'unità dei cristiani. Che è proprio questo che Santa Brigida voleva. Allora, andate a visitare questa chiesa, questa casa vera e propria. Quando si parla delle rivelazioni ricevute da Gesù e dalla Vergine Maria, questa è una figura bellissima. Noi ci affidiamo a lei, padre, però ci sarebbe veramente da parlarne per ore. Sì. Ecco, diciamo la verità. Santa Brigida di Svezia è un polo magnetico di attrazione proprio perché fin da piccina ebbe delle rivelazioni e delle visioni. Andiamo con ordine adesso, anche dal punto di vista teologico, per chi ci sta ascoltando, sia da parte della Vergine Maria che la incoronò, rivelandosi a Santa Brigida, sia da parte di Gesù. Le rivelazioni le ebbe da bambina e poi più avanti e sono state raccolte, pense, in otto volumi con il titolo latino Rivelazioni Extravagantes che vuol dire semplicemente di vario tenore. Sono interessantissime perché manifestano il grande amore che Brigida di Svezia ebbe per la chiesa di Roma. In quel momento, quando Brigida venne qui a Roma, i papi, e cioè Papa Urbano V, era nella corte pontificia di Avignone e l'amore di Brigida per la chiesa di Roma era che il Papa tornasse qui. Tornasse a Roma. In questo senso è simile ad altre sante, appunto donne. Ma poi anche perché alcune rivelazioni che lei aveva ricevuto sia dalla Vergine Maria che da Gesù erano piuttosto esigenti verso i papi, cioè erano quasi delle invettive in senso buono affinché i papi ritornassero, ma anche delle rivelazioni che lei riceveva per i regnanti, per gli imperatori e per i governanti. Allora, questa donna di cui troverete il nome se andate in quel luogo meraviglioso che è sul Gargano, San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, esatto. È la grotta di San Michele Arcangelo. Lei arrivò fin lì, visitò, arrivò fin lì. Cioè è una donna che viaggiò tantissimo, portando sempre con sé questa forza a cui lei fa riferimento. Infatti la ringrazio della domanda perché poche volte, se non nella biografia di Jorgensen, che è il più grande biografo di Santa Brigida di Svezia, emerge questa caratteristica ed essendo io italiano ci tengo a dirla. Lei ha scelto di venire a Roma perché aveva capito che l'Italia nella sua zona mediterranea è un crepuscolo di santi e di sante. Della viaggiò molto, andò appunto a San Michele, a Monte Sant'Angelo. Monte Sant'Angelo. Napoli, assisi da San Francesco perché era innamorata di San Francesco. Aveva intuito che se rimane legata alla chiesa, lei santa, se si entra in sintonia con gli altri santi e se si fa del bene ai poveri. E poi c'è quest'altro legame che abbiamo visto nel filmato con quella croce che portano le suore brigidine sulla testa e indicano il legame e l'amore che Brigida aveva appunto per le piaghe di Gesù e per la città di Gerusalemme. Un'ultima domanda. Il rosario, quando si parla di rosario brigidino, cosa significa? Oh, questa è interessantissima. Allora, la spiego al meglio per quanto mi è possibile. Il rosario brigidino è simile a quello nostrano di San Domenico di Guzman, cioè 5 più 5 più 5 misteri, solo che ad ogni cinquina se ne aggiunge uno, quindi sono 6, 6, 6. L'aggiunta sono tutti i misteri mariani. Ecco perché il Papa Beato più nono era devoto di Santa Brigida di Svezia, perché era il Papa dell'Immacolata Concezione. Termino, per chi ci ascolta, perché anche queste cose sono importanti. È formato da una perla d'oro che indica il credo, quindi la professione di fede, da una perla d'argento, il rosario di Santa Brigida, che indica il Padre Nostro, e poi dai granellini colorati di azzurro che appunto indicano le ave marie e che vanno recitate secondo quei 6 misteri che abbiamo elencato prima. E questo è il nostro padre Gianluigi Pasquale che io ringrazio per essere stato con noi. Prego, è stato un piacere come sempre. Però non lo faccio andare via perché questa sera c'è un appuntamento, l'appuntamento è con Beati Voi, Dieci Comandamenti, condotto dalla nostra Beatrice Fazzi. Ci siamo alle 21.05, siamo sempre puntuali, sulla nostra TV 2000. Guardate insieme a noi questa piccola parte di intervista. È una storia molto importante, è una storia molto bella. Guardate. Non conoscevo Dio, ma Dio mi conosceva. C'era la violenza, mon idol. I miei idoli erano la violenza, le risse. Se non ti riconcili con la tua storia, lei ti avvelena la vita. Come un morso di serpente si diffonde dappertutto dentro di te. La tua storia ti sequestra, è come una prigione. Mi sono detto, bisogna che io faccia silenzio. Per dieci, dodici anni, non ho parlato di Dio con le persone. Oggi non rubo più le banche, ma i cuori. Rubo l'amore. Questa sera non perdete la puntata. Beati voi i dieci comandamenti. Questa è Tinghe Narra, ha scritto un libro, la storia di un uomo che aveva tre desideri, padre. Uscire dal riformatorio, diventare un capobanda e uccidere suo padre. Non sveliamo nulla di più se non l'abbiamo sentito nelle sue parole. A volte la fede ti accende una luce davanti agli occhi e ti dice da che parte andare. Il là, tu e tu fa parlare in francese, il là, peraltro, ho parlato in francese. Ho capito bene quello che ha detto. E cioè, ha ragione lei. Noi siamo esseri della parola. Siamo tenuti in piedi perché Dio continua a parlarci e a dirci qualcosa, delle rivelazioni. Ma la parola che ci tiene veramente più in piedi ha cinque lettere. A-M-O-R-E Amore. Ed è quel sole che è Dio che quando entra nella nostra vita all'inizio del mattino fa aprire i tulipani della nostra esistenza. Cioè, noi siamo un DNA, non dico di più. Siamo un DNA, un fiore che quando sente la parola di Dio vede il sole che Dio è e si apre l'esistenza anche se ha commesso i più grandi peccati di questo mondo. Padre Gianluigi Pasquale, tra poco la recita della coroncina della Divina Misericordia. poi siamo noi domani l'ora solare sempre con voi alle 14. Grazie. Grazie padre. Grazie. Grazie. Prego. Grazie caro. Grazie. Grazie a lei. 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 Grazie a lei.